Non è così imbattibile il tuo compagno di squadra in qualifica? Che cosa ti manca rispetto a Max in qualifica? Non lo so, non lo so. Quest'anno sicuro lui ha imparato l'anno scorso e lui è migliorato. Migliorato? Improvedo, sì. Però sì, questo è italiano. Can you speak Italian? No. Vaffanculo. Va bene? No, va bene, va bene. Vado avanti.